Grazie, un saluto ai ragazzi e alle ragazze, a tutti quanti voi. Allora, mai come oggi è necessario riprendere il valore della cultura scientifica. La cultura scientifica significa poter sperimentare le cose, poterle falsificare. Da Galileo in poi significa questo. Noi siamo di fronte in Italia, in Europa, ad una sorta di movimento neomedievale, come dico io. Stiamo tornando alla stregoneria. Mi capita di trovare gente che non parla la nostra lingua. Gente che ti risponde io dico no e vuoi spiegarmi perché dici no. No, dico no perché voglio dire no e basta. Questo atteggiamento non è tollerabile. E non è tollerabile confondere questo atteggiamento con la difesa del principio di libertà. La libertà è una cosa seria. Diceva un grande intellettuale del secolo scorso, Bertrand Russell, una fede cieca nella democrazia rende impossibili le istituzioni democratiche. Cioè se noi intendiamo la democrazia come la libertà di dire a ognuno quello che gli passa per la testa, non abbiamo capito nulla. La libertà come concetto senza limiti non esiste. Ogni libertà ha un limite. Il limite definisce la libertà. La libertà senza limiti è il nulla. È il nulla. Allora noi dobbiamo riprendere il valore della cultura scientifica. Oggi più che mai. perché oggi alla ripresa di un atteggiamento scientifico è legata la vita delle persone. La vita. Io vi invito ovviamente a vaccinarvi tutti quanti. Non fate i pinguini. Vaccinatevi tutti. Vaccinatevi. È la mascherina. Per voi. Perché questi due anni lasceranno delle tracce nell'anima di ognuno di noi, soprattutto i più giovani. Non passeranno indifferentemente. Soprattutto per i più piccoli. Due anni di mancanza di relazioni sociali, relazioni umane. Per i bambini più piccoli, non poter abbracciare una madre, un padre, un nonno. Non poter vivere con i propri compagni di scuola. È qualcosa che lascerà traccia. Il tema è transizione. Noi siamo dentro una immensa transizione del mondo contemporaneo. L'innovazione tecnologica, la trasformazione digitale ha cambiato tutto. Probabilmente noi siamo di fronte ad un passaggio nella storia umana, simile a quello che abbiamo conosciuto qualche centinaio e migliaia di anni fa. C'è stato un tempo nel quale noi siamo passati lentamente dal Neandertal al Sapiens Sapiens. Ci sono voluti 40.000 anni, credo, per completare questo passaggio. È cambiato il tipo umano ed è cambiato perché è scomparsa quella specie umana che non era capace di utilizzare i mezzi per la caccia, per l'agricoltura, per la sopravvivenza. Oggi la sensazione che ho io è che il padroneggiare la cultura digitale dividerà la specie umana fra chi è in grado di padroneggiare questi strumenti e queste tecniche e chi non è in grado di padroneggiare. Siamo di fronte davvero a un passaggio epocale. Questo passaggio epocale ovviamente lo viviamo nell'ambiente e nella produzione. E adesso parlo a voi ragazzi, parlo al vostro futuro, a quello che dovrà essere la vostra vita. Noi abbiamo imparato nel corso di questi decenni che la cosa più difficile nell'attività anche pubblica è la trasformazione della realtà. La mia generazione si illudeva di cambiare il mondo, dovevamo fare la rivoluzione. Abbiamo dovuto capire a nostre spese che la cosa più difficile è passare dalle parole alla trasformazione della realtà. Capire che questo passaggio è la vera rivoluzione, cioè imparare a cambiare la realtà, non a parlare della realtà. Questo è il passaggio difficile, drammaticamente difficile, che dobbiamo imparare a compiere. Allora, noi siamo di fronte ad uno sconvolgimento delle produzioni, del modo di produrre. La transizione di cui parliamo non sarà in dolore, la transizione significherà disoccupazione di massa. Se in un ciclo produttivo entra la digitalizzazione, entrano i robot, non c'è niente da fare. Si riduce il numero dei lavoratori impegnati nelle produzioni di massa. Allora dovremmo affrontare un primo grande problema. Come si regge la trasformazione digitale delle produzioni, del mondo, con l'equilibrio sociale, con i milioni di esseri umani che rischiano di non avere più il lavoro. C'è un secondo grande campo che riguarda la trasformazione dell'ambiente. E qui davvero non abbiamo molto tempo davanti a noi. Non abbiamo molto tempo. Stiamo conoscendo sconvolgimenti ambientali che ci erano sconosciuti in altri tempi. Non abbiamo davvero molto tempo davanti a noi. E non è facile portare tutta l'umanità a capire che davvero ci giochiamo il futuro del pianeta. La risposta che hanno dato ancora in questi eventi di questi giorni, Cina popolare, India, l'Asia nel suo complesso, è stata brutalmente provocatoria. Voi, occidentali, chiedete a noi di non adoperare il carbone. Dopo che voi avete costruito la vostra rivoluzione industriale, il vostro benessere e anche il colonialismo, cioè dopo che avete sfruttato interi continenti devastando l'ambiente e i territori. Adesso che ci affacciamo noi, verso il benessere, verso la ricchezza, ci dite di frenare. Non è un argomento banale, ovviamente. Dobbiamo lavorare per persuadere tutti che alla fine, se rovina il pianeta, non ci guadagnerà nessuno, neanche la Cina popolare. Allora, noi abbiamo di fronte questi grandi temi della transizione ambientale e dobbiamo cercare di fare ognuno di noi la propria parte. Faremo, credo, in Campania, fra qualche settimana, una bella iniziativa, semplice e piccola. Vogliamo piantumare un milione di alberi. Tu considerati prenotato. Sì, sì, io vengo a piantare. Un milione di alberi, facciamo quello che ha nelle nostre possibilità. Ma dobbiamo sapere che c'è uno scontro gigantesco di interessi che ostacola questa transizione ecologica. E qui, ovviamente, c'è uno scontro anche politico e di grandi interessi economici. In questi decenni si è consumato uno scontro fra Stati Uniti d'America e Cina popolare. Gli Stati Uniti hanno raggiunto una egemonia nel campo delle tecnologie della informazione tecnologica digitale nella ricerca biometrica. I cinesi hanno fatto un lavoro scientifico di accaparramento delle risorse e dei terreni agricoli. La Cina popolare è proprietaria di oltre metà del Madagascar. La Cina ovviamente ha un miliardo e mezzo di cittadini da sfamare. E quindi ha fatto un'operazione di land grabbing, di accaparramento delle terre, delle risorse. Questo scontro si sta consumando in questi anni. Noi rischiamo di essere, noi Italia, ma l'Europa in generale, di essere il vaso di coccio. Vi faccio un solo esempio. In Campania abbiamo la produzione massima di fibra ottica. Abbiamo una grande azienda, la Prismian, che ha stabilimenti in modo particolare a Pozzuori, a Battipaglia. Bene, Prismian è il principale produttore in Europa, ma è in competizione con la Cina. Ha aperto stabilimenti in Cina, a un certo punto i cinesi hanno detto che deve vendere alla Cina. Perché così ha deciso il governo cinese. Lì le decisioni funzionano così. E di fronte alla resistenza dei nostri, hanno cominciato a procedere con gli arresti. Molti dirigenti delle aziende nostre o delle aziende cinesi collegate con le aziende italiane, cominciavano ad andare in galera. Alla fine abbiamo dovuto lasciare la Cina. Che cosa è successo? La Cina si è impadronita della tecnologia sulle fibre ottiche e ha deciso di essere monopolista. Oggi la metà della fibra ottica prodotta nel mondo è prodotta dalla Cina. Che succederà alle centinaia di dipendenti Prismian che abbiamo qui in Campania e nei comuni della Campania? La Francia si è difesa, ha inventato una fibra ottica flessibile che trasmette il segnale anche se l'ha attorcigliata intorno a una matita. In parte possediamo anche noi questa tecnologia, ma dobbiamo deciderci a fare un bando che obblighi perlomeno le società italiane ad acquistare prodotto italiano. In America i cinesi non entrano, vi è un dazio del 50%. La guerra è aperta in Europa, noi siamo completamente travolti. Per dirvi che questo esempio che faccio sulla fibra ottica lo possiamo moltiplicare per tutti i settori. Allora noi davvero ci giochiamo il futuro del vecchio continente e per quello che ci riguarda dell'Italia in modo particolare. Leggevo venendo qui in macchina che in Italia il 91% delle richieste di investimenti nell'eolico, 91%, è bloccato da cinque anni. L'Italia ha una grande malattia, è la palude burocratico-amministrativa-giudiziaria che paralizza chiunque voglia investire e creare. Nel tempo che ci mettiamo noi in Italia per avere un permesso ambientale, la Cina popolare ha realizzato dieci aeroporti. Voi pensate che in queste condizioni possiamo fare la competizione mondiale? Non ce la faremo male, non ce la faremo mai. Allora, che stiamo facendo noi in Campania? Noi in Campania stiamo lavorando per implementare la ricerca scientifica. Abbiamo cominciato con la ricerca sul cancro, vorremmo essere la parte del mondo dove vengono inventati i vaccini contro il cancro. Ci stiamo lavorando ormai da tre anni, abbiamo investito quasi 140 milioni di euro. Abbiamo avviato di recente la ricerca contro il Covid. Stiamo finanziando la ricerca sull'aerospaziale, soprattutto sui droni. Stiamo finanziando la ricerca sulla guida automatica delle automobili. Abbiamo finanziato un progetto di Adler che sta sperimentando in un comune terremotato, credo l'Ioni dell'Alta Eppinia, la guida automatica. Stiamo finanziando tutte le start-up che riguardano il digitale. Stiamo facendo uno sforzo per cercare di portare la regione Campania ad avere un livello di competitività, non drogato, rispetto ad altre parti del mondo. Cominciando a valorizzare le nostre preesistenze industriali, a cominciare dall'automotive, dall'aerospaziale che sono il nostro patrimonio. Stiamo cercando di lavorare sulla formazione. Questo è un problema che riguarda molto voi. In Germania c'è la formazione duale. Chi lavora nelle secondarie superiori fa metà a scuola e metà nelle aziende o nelle fabbriche. In Italia questo sistema formativo non c'è. Stiamo implementando gli ITS, gli istituti tecnici superiori, soprattutto gli istituti tecnici, per legare la formazione alla domanda che viene dalle imprese. Stiamo cercando di fare di tutto per dotare delle professionalità necessarie le giovani generazioni. Senza queste professionalità noi faremo fatica a trovare lavoro nel mondo contemporaneo. Allora, noi dobbiamo muoverci in questa direzione e concentrare le risorse che abbiamo nella ricerca, nella formazione, negli investimenti produttivi. Noi siamo ancora un paese che si consente dei russi, che non si consentono i giovani in America. Ho raccontato altre volte di un viaggio che ho fatto a Los Angeles. Volevo parlare con Frank Gehry per fare un grande progetto di architettura contemporanea per un termomarizzatore. Bene, mi capita di andare alle 10 di sera in una università libera, Los Angeles. Alle 10 di sera. L'università era aperta. Ragazze e ragazzi studiavano, alcuni erano seduti sulle cassette di legno che noi utilizziamo per il trasporto della frutta. Tavoli normali, fili della corrente elettrica appesi, una cosa che in Italia sarebbe inimmaginabile. Eravamo in California, nella punta più avanzata della innovazione tecnologica. Quei ragazzi stavano lavorando per costruirsi un futuro. Ed erano quella sera, in collegamento con i loro colleghi a Hong Kong, per confrontarsi su un programma di progettazione edilizia avanzato, informatizzato. Sto parlando di 15 anni fa, 20 anni fa. Allora, guardiamoci negli occhi. Voglio ricordarvi quello che ho ricordato ai miei figli che diceva Seneca vivere militare est. Vivere vuol dire combattere. Chi vi liscia il pelo e vi presenta il futuro come una passeggiata nei prati fioriti vi sta tradendo e vi sta condannando. Vivere vuol dire combattere. e dovete prepararvi a combattere perché non vi regalerà nulla nessuno e meno che mai avrete regali voi, giovani meridionali, perché ancora oggi in Italia ancora oggi in Italia dobbiamo lottare con le unghie e con i denti per avere nel nostro paese gli stessi diritti che hanno i vostri colleghi in altre parti d'Italia. Allora dobbiamo combattere. Voglio dirvi un'ultima cosa. partite da un presupposto le nuove tecnologie la digitalizzazione state tutti quanti voi con queste pazzielle in mano dalla mattina alla sera pip 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 le nuove tecnologie ovviamente hanno rappresentato una possibilità di ampliamento delle conoscenze inimmaginabile ma badate sono anche il canale per un fiume di false notizie e di stupidaggini l'ottanta per cento di quello che circola sui social è governato da tre o quattro motori di ricerca non è un'espansione della democrazia è una limitazione drammatica della democrazia ci sono tre o quattro punti che con gli algoritmi controllano le tendenze i gusti le domande di mercato altro che espansione della libertà allora le tecnologie devono avere un uso umanizzato intelligente e critico quando accendete un computer sappiate che l'ottanta per cento di quello che trovate è falso o deformato primo secondo le tecnologie e anche la scienza di cui parliamo non daranno mai a voi il senso della vita il valore della vita noi dobbiamo lavorare per un nuovo umanesimo perché dentro il computer non troverete un sorriso non troverete una mano tremante di una persona anziana che ha l'alzheimer non troverete la paura che trovate negli occhi di una donna che ha una condizione di violenza in famiglia e non troverete neanche la gioia dell'amore questo non lo troverete in un computer allora ricordatevi la cosa più moderna è l'uomo è l'umano è il sistema di relazioni è la capacità di coltivare valori umani permanenti perché sono questi che danno un significato alla vita prima o poi sarete chiamati a scegliere se essere maggiordomi servi se farvi mettere la mano sulla testa da qualcuno o essere donne e uomini liberi la libertà si paga la libertà si paga ma dovete scegliere dovete scegliere un'ultima cosa la dico per me mi auguro che possiate impararla anche voi l'elemento di cultura più importante che io ho acquisito nella mia vita non è quello che ho trovato sui libri sui classici greci latini italiani è una convinzione che mi è stata trasmessa da quelli più anziani di me la cosa più civile più importante che io ho imparato è stata non vergognarmi del sudore di mio padre siate orgogliosi dei vostri padri delle vostre madri soprattutto quando venite da famiglie di povera gente come vengo io da famiglia di emigrante siate orgogliosi del sudore dei vostri padri cioè del sacrificio di chi ancora oggi sacrifica la propria vita per voi per lasciarvi qualcosa per darvi un avvenire perché vive in qualche modo con spirito religioso la propria esistenza cioè convinto che c'è qualcosa di più importante di noi stessi che viene dopo di noi mi auguro davvero con tutto il cuore che possiate crescere così nel rispetto di questi valori umani permanenti auguri a tutti quanti di voi buona fortuna grazie governatore Vincenzo De Luca veramente grazie